non arriva a far benzinale che non arriva ah si occhio oh gas non è 47 secondi do vai io oh parco dio ragazzi una madonna ho visto che era partito in tromba oddio padre non è nato oddio padre a regarca ho visto che era partito grazie a tutti